Bilancio positivo per il primo sbaracco di Voghera organizzato da Ascome e dal Comune e a cui hanno aderito circa 80 commercianti della città. Nonostante il clima gelido, nel weekend Via Emilia si è presentata insolitamente colorata e viva, complice la chiusura dei centri commerciali nella cintura cittadina e la voglia della gente di tornare a vivere a ormai un anno dallo scoppio della pandemia. Oggi è andato in scena il primo sbaracco, il primo sbaracco vogherese. I nostri commercianti hanno esposto fuori dal negozio la loro merce fine saldo e come potete vedere il riscontro è stato buono e positivo. Consegneremo una pergamena di encomio a tutti i nostri eroi commercianti che hanno veramente passato un periodo sgradevole, pesante. Lo dico anch'io, sono una commerciante anch'io. Abbiamo desiderio di uscire da questa crisi, abbiamo desiderio di rivivere. Oggi veramente è una bella giornata. Fortunatamente è uscito anche il sole, quindi questo ci aiuta in questa giornata molto fredda. Però è bello vedere queste persone in giro per i negozi. Insomma c'è voglia di riprendere e ricominciare a lavorare. Quindi un plauso sicuramente all'amministrazione comunale, un plauso all'assessore Francesca Miracca per il lavoro che ha fatto e cominciamo a vedere i primi segnali di ripartenza. Quindi andiamo avanti su questa strada. Tra le iniziative messe in campo, anche quella legata a un carnevale anomalo che ha dovuto fare a meno delle classiche feste dei bambini per non perdere il sorriso e donare un po' di colore alla città, allora gli alunni degli istituti comprensivi hanno realizzato disegni che sono stati affissi nelle vetrine dei negozi sfitti della città. Dato che non si può festeggiare e organizzare il carnevale nelle forme tradizionali, nelle forme ordinarie, in piazza con la solita manifestazione annuale, abbiamo appunto pensato di coinvolgere i bambini e le scuole attraverso degli elaborati. Sono state esposte nelle vetrine dei negozi sfitti della nostra città anche in quelli comunali. Stiamo cercando come amministrazione di pensare a tante altre iniziative per quando si potrà ripartire a 360 gradi.